La società Unione Sportiva Santa Lucia di Serino, team bianco-verde militante in seconda categoria, per quest'anno ormai ha concluso il campionato in anticipo per colpa del Covid-19 che ha portato via la stagione agonistica. Nonostante sia molta la voglia di ricominciare ad allenarsi e stare insieme, la squadra rimane unita nel motto dell'andrà tutto bene e di restare a casa. Anche se ora decreti e restrizioni sono e saranno meno fiscali, con il buon senso di tutti il club serinese invita la comunità irpina ad uscire solo in caso di necessità e per gli sportivi tutti di continuare ad allenarsi anche individualmente in questo periodo. Il sodalizzo dei presidenti Dorino e Polidoro insieme al mister Francesco De Biase con un videomessaggio, come hanno fatto già molte squadre, sensibilizzano quella che è la fase 2 del coronavirus appena iniziata. Andrà tutto bene, bene che siamo a casa. Andrà tutto bene, noi restiamo a casa. Andiamo tutto bene, noi restiamo a casa.